24 dicembre 1871. Al Cairo, presso il Chedi Vial Opera House, viene rappresentata per la prima volta l'Aida di Giuseppe Verdi. L'opera è stata commissionata dal governo egiziano a Verdi per celebrare il grande evento dell'apertura dello stretto di Suez avvenuta nel 1869. Il ritardo nella rappresentazione dell'opera è dovuto alla guerra franco-prussiana che devasta Parigi, bloccando il trasferimento di tutta la macchina teatrale costruita nella capitale francese. Nel 1871 Giuseppe Verdi non è presente alla rappresentazione in Egitto, ma si guadagna il prestigioso titolo di commendatore dell'ordine ottomano.